Cyber human, un po' come il giapponese e l'umanoide, adesso facciamo un salto nel prossimo futuro e vediamo come le protesi che attualmente sono già nel nostro corpo, come ad esempio le valvole cardia, che è una protesi d'anca, possano diventare sensori che producono dati. Professor Marrocco. Io sono Vietano Marrocco, Università di Roma Torvercata. Allora, abbiamo visto che l'aspettativa di vita è lungamente aumentata dal dopoguerra ad oggi, e all'aspettativa di vita aumentata, con il consaltare c'è il fatto che ogni tanto dobbiamo sostituire dei pezzi, da un dente che è rovinato, una protesi ortopedica, fino a parti più complesse del corpo. Ma l'impianto della protesi non è la parte finale della cura, anzi è un nuovo inizio, però noi possiamo vederla da un punto di vista positivo, perché quando noi impiantiamo qualunque tipo di protesi, quello che facciamo è apriamo un canale, un canale tra l'interno e l'esterno che è l'intervento, dopodiché si richiude e il canale viene sigillato. Ora, immaginate di dotare le protesi che sono oggetti, diciamo, tecnologicamente avanzati, ma orientati soltanto a una funzione meccanica. Immaginate di dotarli anche di funzionalità di generazione di dati, quindi di integrazione di sensori. Per cui, in questo modo, se questi oggetti fossero in grado anche di trasmettere l'informazione, abbiamo ottenuto il canale aperto, il canale interno del corpo e esterno del corpo, in modo da poter analizzare in tempo reale, nel tempo, quello che sta succedendo all'interno. Non soltanto capire come la nostra protesi sta funzionando, se va in conto a malfunzionamenti, a deterioramenti, ma anche analizzare il nostro stato di salute dall'interno, come mai era stato fatto prima d'allora. Inoltre, potremmo immaginare di immagazzinare dei dati della nostra salute su questa protesi. Magari ci spostiamo in un altro paese, abbiamo un incidente, e nessuno sa la protesi che marca è, quando è stata impiantata, se abbiamo delle problematiche di salute, di allergia, quindi in questo modo l'informazione rimane sempre con noi. Dopodiché possiamo misurare una elevata quantità di parametri, la temperatura, il pH, grandezze che sono associabili a infezioni, per esempio, a piccole fratture, e quindi possiamo intervenire in maniera preventiva prima che il problema che noi abbiamo all'interno diventi così grave che magari richieda l'espianto della protesi. Cosa ce ne possiamo fare? Beh, possiamo costruire una continuità tra ospedale e casa. Si parla di home hospital, che ha, insomma, magari qualcuno a casa non particolarmente giovane che ha subito un intervento, magari ha rotto una gamba, un piede, hanno messo una protesi, quando torna a casa si sente solo. Ha un dolore, un fastidio, non sa se è qualcosa di patologico, è normale, quindi prendi, lo porti in ospedale, sei dietro te, le ritorna. Immaginate invece che la protesi essa stessa dia un'informazione su quello che sta succedendo all'interno con un cellulare, quindi alla portata di tutti, in modo da poi tranquillizzare la persona o avviare un intervento, diciamo, immediato, qualora fosse necessario. Oggi, nella tavola rotonda che si è tenuta, abbiamo riunito parecchi esperti con competenze molto complementari, dalla medicina all'industria, al diritto all'ingegneria, e abbiamo cercato di capire un po' quali potessero essere gli impatti di questa tecnologia e soprattutto le eventuali criticità da risolvere prima dell'applicazione. Ecco, il principio fondamentale è usiamo già quello che c'è, cioè evitiamo di complicare un oggetto semplice che è già assolvere ad una funzione e cerchiamo quindi di aggiungere il minimo possibile di elettronica, cosicché trasformiamo la protesi stessa in qualcosa che è capace di assorbire energia dall'esterno, quindi non abbiamo bisogno di batterie che vanno sostituite, è capace anche di trasformare una variazione di una grandezza interna in un segnale che possiamo trasmettere. Ecco, le protesi di questo tipo diventano cibernetiche, rimangono semplici come le ha ideate il costruttore, ma hanno funzionalità aggiuntive. Ora, negli anni nel mio laboratorio a Torvercata ne abbiamo sensorizzate tante di protesi ortopediche, protesi dentali, fino ad arrivare ad una protesi cartiaca. Ecco, vi faccio un esempio che è un po' rappresentativo per capire. Questa è quella che si muove, si dovrebbe muovere, ma non si muove, era una valvola tricuspide che in alcuni casi deve essere sostituita. Quella è una valvola ingegnerizzata molto complessa con materiali biologici, polimerici, metalli, ma se noi guardiamo all'interno c'è un'anima metallica. Quell'anima metallica, per chi ha la testa allenata, è un'antenna. Io mi occupo di antenne. E quindi automaticamente è sempre fatta apposta per assorbire energia che viene dall'esterno. Quindi la modifica che io devo fare per trasformare quella valvola meccanica in un dispositivo cibernetico è veramente minimale. basta aggiungere quel pezzettino che vedete, quel triangolino che vedete in alto e quell'oggetto è capace di misurare la temperatura all'interno ed è il termometro più preciso del mondo perché misura la temperatura dove è definita nell'arteria. E la possiamo leggere dall'esterno. Dopodiché quell'oggetto se non è interrogato rimane lì inerte, può stare per anni, per tutta la vita del dispositivo stesso. Adesso lì vedete c'è una misura di temperatura, quindi si può vedere se c'è un'infezione. Può misurare la pressione in maniera del tutto trasparente. Bene, ci sono delle sfide, ovviamente. La prima sfida è l'accettazione sociale. Accetteremo di avere all'interno qualcosa che porti fuori alcuni dei nostri dati? Questo dobbiamo capire. Dopodiché gli attori, questa è una filiera, non è solo l'oggetto, l'oggetto è abilitante, su questo si costruiscono servizi. Quindi tutti gli operatori dei vari strati dei servizi devono lavorare assieme. Dopodiché, chi accede ai dati? Chi li gestisce? Questo è estremamente delicato. E infine, essere consapevoli degli eventuali rischi e pericoli a cui si va in conto. E di questo abbiamo discusso oggi, ragionando un po' un pezzo alla volta. Allora, la governance. Allora, questo è un aspetto interessante. Chi gestisce i dati? Immaginiamo che la mia parotesi mi abbia dato delle informazioni e io le posso leggere sul mio cellulare. Vedo un numero strano, la prima cosa che faccio, vado su internet. Vado su internet e mi spavento. Seconda cosa, chiamo il mio medico di famiglia, che si arrabbia. E dice, ma pure la parotesi. Adesso mi disturbate anche per la parotesi. Allora, magari il dato può essere non visibile all'utente, ma va direttamente allo specialista. Ma quale specialista? Magari ci sono più patologie, quindi non ce n'è soltanto una. Allora possiamo immaginare dei centri di assistenza, tipo poliambulatorio, che prendono i dati, analizzano e li inviano agli specialisti. Ma chi lo paga? Ci vogliono assicurazioni? Lo Stato riconosce e rimborsa questo tipo di prestazioni? Non è semplice, questa cosa è da studiare. Dopodiché, la prima cosa che avete pensato è, insomma, ma adesso è la privacy? È la sicurezza? Se qualcuno mi ruba i dati, mi manomette la parotesi? Teniamola a me per questa cosa. Allora, abbiamo applicato un metodo oggi, abbiamo, dopo aver analizzato il presente, fatto un po' di brainstorming, abbiamo immaginato di proiettarci tra dieci anni, quando tutte le problematiche tecniche che ho detto prima, magari sono già state risolte. Quindi ci siamo messi nel futuro che ci piacerebbe avere. Dopodiché siamo tornati indietro e abbiamo cercato di capire, ma per arrivare lì, dove ci piace, cosa ci serve? E quindi sono note fuori delle proposte che sono degli stimoli di lavoro sui quali lavorare, insomma, da domani, dopo domani in poi. Il primo è capire il vero beneficio, quindi il technology assessment, beneficio che deve essere per il paziente, perché altrimenti non darà mai il consenso, per il servizio sanitario nazionale, ci deve essere un risparmio, e poi anche un beneficio per la conoscenza, per la scienza, perché ha una visione più dettagliata di quello che succede dentro. L'altro aspetto è perimetrare in modo sistemico o sistematico le problematiche di salute, sicurezza e privacy, e capire che questi diventano requisiti, by design, che devono essere tenuti in conto durante il progetto, non mettere una pezza dopo, e in più indicare modalità opportune di uso della tecnologia, come c'è il bugiardino del farmaco che vi dice in quali condizioni non usarlo, la stessa cosa vale per questa tecnologia. Dopodiché, qui stiamo generando altri dati, ma che facciamo? Creiamo un'altra sorgente disgiunta dalle altre? Possibilmente no. dovremmo integrarle nei servizi che lo Stato sta standardizzando, possibilmente sotto l'egida dell'Agenzia per la Sanità Digitale, quindi in modo tale che queste informazioni entrino, per esempio, nel fascicolo, nei processi di intelligenza artificiale. Poi è venuta un'idea, insomma, di costruire un tavolo di lavoro verticalizzato sulle applicazioni cardiovascolari, perché sono estremamente diffuse, hanno a che fare con un rischio di vita molto elevato, quindi il beneficio sarebbe particolarmente importante. E poi, a un certo punto, il PNRR finisce, quindi noi dobbiamo mettere in campo delle strategie per rendere contituativo e per rendere sostenibile questi ragionamenti, questi tavoli di discussione anche da qui a un paio d'anni. E questo è il lavoro che ci aspetta.